festival del podcasting 2016 io sono giulio gaudiano e sono insieme a un podcaster di tutto rispetto se avete seguito la diretta prima di questo intervento avete sentito max formisano che diceva ho visto che dopo di me ci sarà questo podcaster e io lo ascolto sono un suo ascoltatore un suo fan sfegatato quindi dopo l'intervista ascolterò il suo intervento sto parlando di gennaro romagnoli e il suo podcast è psicologia e crescita personali ciao gennaro ciao giulio ciao a tutti gli ascoltatori grazie per avermi per avermi invitato anche io stimo tantissimo max formisano per cui non posso fare altro che essere onorato di venire dopo di lui ecco allora ora le aspettativa è altissima oltretutto hai questo bellissimo sfondo con le tue chitarre quindi penso abbia anche tu la passione per la musica assolutamente si anzi fa parte del podcast fa in parte piccolo piccolo fa parte del podcast benissimo allora iniziamo da prima del podcast cercando di capire chi è gennaro romagnoli prima di essere un podcaster ma prima di darti la parola voglio ringraziare i nostri sponsor che sono spriger la piattaforma per pubblicare podcast dove anche tu pubblichi podcast se non mi sbaglio giusto assolutamente sì da sempre perfetto quindi spriger è doppiamente ringraziato è ringraziato anche radiospeaker.it che crea sigle e sound design professionali per podcaster e l'applicazione per ios per iphone castamatic creata da franco solerio digitale quindi un'applicazione per ascoltare i podcast creata da un podcaster meglio di così si muore gennaro la parola a te per raccontarci chi è gennaro romagnoli prima di essere un podcaster allora prima di essere un podcaster sono uno psicologo faccio lo psicologo faccio lo psicoterapeuta questo è sia da prima che durante il podcasting quindi la la passione per internet nasce proprio dall'esigenza di promuovermi come professionista come psicologo nel circa nel 2005 dopo un anno e che mi ero laureato ha aperto un'associazione culturale con degli amici e questi dicono bene tu ti devi occupare del sito internet è un casino insomma no quindi siamo nella nascita forse del 2.0 in italia che si inizia a pensare un po il blogging invece che ai siti statici a questa roba qua io non sapevo niente e tuttora non so niente in realtà non sono ha fatto un tecnico quindi so pochissimo però mi sono un po impegnato e via via guarda di qua guarda di là sono finito a fare un blog appunto psinel che questo blog che ha questo nome un po infelice psicologia neurolinguistica.net un po infelice perché intanto un nome lunghissimo quindi la gente prima di prima che gli entri in testa è difficile e poi perché rappresentava un po la mia passione di quel momento che era una parte un pezzettino piccolo della psicologia e nel tempo così ho iniziato mi sono rotto le scatole di fare solo dei post e ho iniziato a fare una piccola audio newsletter questa specie di newsletter audio invece che 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 scritta proprio seguendo te e robin good nel periodo mi ricordo 2006 2007 circa più o meno in quel periodo lì sentivo che c'era proprio l'esigenza di fare qualcosa di valore e di differente da lì è nata un po l'idea di fare l'audio poi ho scoperto che si poteva pubblicare su itunes attraverso spreaker e da lì ho iniziato a fare il podcast vero e proprio beh sono assolutamente onorato di essere stato in qualche modo tra i fautori della nascita di psine e raccontami come hai creato il tuo progetto nel senso ti sei messo a tavolino e detto la passione per la psicologia sono uno psicologo voglio promuoverlo come come hai impacchettato questo questo prodotto come hai creato i formati editoriali raccontami un po il lavoro di progettazione del podcast a partire da zero le tue conoscenze in momento erano immagino solo forse da ascoltatore di podcast assolutamente anzi quando iniziato i podcast erano pochissimi cioè i podcast fruibili in italiano erano erano davvero pochissimi quindi ero più un fruitore di formazione digitale non so come come definirla e durante quel periodo ho iniziato un po per prove ed errori quindi la diciamo che la scaletta di psine l'è venuta fuori a di provarci ci provi un giorno ci provi un altro giorno prima inizia non so penso a un contenuto poi lo sviluppo in un determinato modo e da lì poi ho creato la struttura attorno al contenuto quindi non so la sigletta piuttosto che i ringraziamenti e tutte queste piccole cose piccole e grandi cose poi nel tempo la cosa che più mi ha più mi ha affascinato del della di questo tipo di progettazione è stato che mentre lo facevo ho capito ho capito qual era lo scopo del mio blog fra virgolette cioè proprio furia di spulciare spulciare riprovarci ho capito che c'era un buchetto nel campo della formazione e mi ci sono infilato la famosa nicchia anche se la mia nicchia non sono così bravo a fare marketing quindi la mia nicchietta era davvero striminzita è tutt'oggi una nicchietta poco compresa se vuoi prendo due minuti e ti spiego che cosa mi sembra di aver capito praticamente a un certo punto mi rendo conto che la crescita personale che sarebbe quella branca del self help quindi la psicologia fatta in casa quella che tu fai su te stesso che in parte poi l'ambito formativo su cui si muovono tutti i formatori italiani perché ovviamente se vuoi scrivere un libro se vuoi fare un prodotto che qualcuno possa utilizzare non puoi dirgli vieni da me che ti formo o vieni da me che ti faccio una seduta e quindi bisognava capire qual era questo passaggio tra le cose che puoi farti da solo il famoso self help e le cose che invece devi fare per forza accompagnato da qualcuno in questo passaggio qua in italia ma anche nel mondo in realtà mancava quello spazio che c'è fra la ricerca sperimentale adesso questa un po un po tecnica fra la ricerca sperimentale e l'applicazione pratica cioè in italia c'era gente che scrive libri sulla crescita personale ma non diceva da dove arrivava quello che stava dicendo cioè quindi diceva non lo so è bene segnarsi gli obiettivi e perché chi l'ha detto e allora invece io ho iniziato a spulciare tra le banche dati della della ricerca scientifica ho la fortuna di avere questo accesso alle banche dati grazie alla mia compagna che lavora in biblioteca fra virgolette quindi ho la fortuna di di poter accedere alle banche dati della psicologia e allora quando è usciva un tema particolare sulla motivazione meglio sono meglio le punizioni o meglio i premi allora andavo a cercarmi tutta la ricerca scientifica a riguardo e cercavo di tradurla in in roba facile semplice che tutti potessero comprendere non è facile però questo un po' la linea editoriale di psine bene molto interessante questo processo che ti ha portato a scoprire la nicchia che non è stato a monte ma a valle dello sporcarsi le mani con la comunicazione ha avuto parte in questo processo il tuo pubblico le persone che ti ascoltavano o è stata una riflessione che è maturata nella tua testa portando avanti il lavoro di podcaster allora per prima cosa una riflessione nata nella mia testa sicuramente però nel tempo l'ho dovuta fortunatamente adattare al mio pubblico anche perché io ho capito che non sono così bravo a capire le esigenze del mio pubblico nel senso se io faccio un bel podcast me lo penso mentre sono in spiaggia mi viene in mente questa che figata questa idea piacerà a tutti sicuramente molto probabilmente non piace mentre se è una richiesta giustamente fatta dal pubblico quindi mi arrivano tre quattro dieci mail dove mi chiedono per piacere parlami di o come si prende sonno meglio ecco che ovviamente questo podcast funziona molto meglio quindi ho dovuto fare una specie di compromesso tra la mia passione quindi io mi infilo in argomenti specifici chi mi segue sa che ultimamente seguo la meditazione quindi mi infilo un argomento specifico però poi se qualcuno mi dice guarda che accanto alla meditazione c'è anche boh la meditazione per mangiare meglio e dimagrire adesso dico invento qualcosa ecco che io mi sposto leggermente anche su quel campo quindi parto sempre da qualcosa che amo io perché altrimenti non avrei la motivazione sufficiente per andare avanti non mi piace raccogliere come farebbe un bravo marketer non mi piace fare raccogliere qual è il trend che tutti seguono e poi cercare di adattarmi a quel trend ma preferisco parlare di ciò che mi piace e vedere se questo piace oppure no poi al limite dopo un po devo abbandonare perché il pubblico a un certo punto ha sempre ragione fra virgolette ecco quindi è un po questo benissimo e raccontaci qual è il tuo setup quindi microfono accessori computer software per la registrazione cuffie tutte cose che consiglieresti a un podcaster che parte oggi allora io sono un po scarso su queste cose però spero di poter alzare il microfono fartelo vedere il mio microfono in questo è esattamente questo quello che uso adesso non riesco a capire che tipo sia questo condenser cardio usb comunque è un è un microfono a condensatore usb quindi ha dentro se non se non se non dico in esattezze dentro dovrebbe avere già una specie di scheda audio che mi permette di connettermi attraverso usb direttamente al computer e uso un semplice audacity non so come si dica per rieditarlo io sono un pessimo esempio di podcast nel senso che nel senso che utilizzo questi pochi strumenti che per me vanno benissimo e poi faccio tutto io quindi alla fine metto lì con audacity anzi in realtà il mio podcast è letto quindi i miei lettori lo sanno che io i miei ascoltatori lo sanno che io leggo fra virgolette quello che leggo uno script mi scrivo mi viene l'idea mi metto lì scrivo tre quattro pagine questo è più o meno il il tipo di impaginazione che mi permette di capire che riuscirò a fare almeno dai 20 ai 30 minuti di podcast quindi scrivo due tre paginate di di un semplice file word poi mi metto lì esattamente noi metto lì metto qui esattamente qui ho qualche piccolo pannello fono assorbente che mi permette di isolarmi leggermente dal mondo fuori qua fuori non c'è troppo casino però un po ce n'è faccio vedere perché l'ho visti dietro di te li metti sono pannelli mobili ottimetti in quell'angoletto a registrare no sono pannelli mobili non so se si riesce a vedere quasi ok si riesce a vedere sono questi ne metto uno a lato due a lato scusami in modo da creare una specie di piccola cassa di un piccolo suo ambiente complet quasi completamente insonorizzato c'è un po di riverbero nel senso che anche davanti a me rimbalza qua davanti a me un muro rimbalza il suono quindi ogni tanto metto un piccolo panno che mi permette anche di coprire in parte quel quel pezzetto di riverbero questo è più o meno tecnicamente poi uso un computer un pc normalissimo adesso credo sia un i7 questo qua un processore i7 quindi abbastanza performante ma si può fare tranquillamente con un portatilino qualsiasi con la stessa qualità poi mi metto lì edito tutto con audacity ci metto sotto le siglette che faccio con con garage band e le varie chitarrine che vedi che vedi qui dietro e basta tutto qua quindi le sigle sono tutte originali sì le sigle sono tutte originali si sono si sente un po scusa mi fa ridere che qualche tempo fa un tizio mi scrive guarda è bellissimo il tuo podcast però quella sigletta stile anni 80 potresti toglierla e gli scrivo scusami ma l'ho fatta io la sigletta scusami scusami non volevo offenderti ma va tranquillo bene da quando hai il tuo file pronto uscito fuori da audacity in mp3 dove lo metti immagino su speaker perché ci siamo anticipato ma parla di un pochino della distribuzione se oltre a speaker e ai e tunes c'è qualche altro posto dove vai a pubblicare allora il primo posto che utilizzo per divulgare il podcast è sicuramente la mia lista la mia mail in list cerca 10 mila persone cerca che ricevono tutte le settimane un un email attraverso uso a weber come delivery come si chiama insomma quel software che mi permette di inviare le email attraverso a weber invio questi mail un po a tutti a tutte le persone che si sono iscritte in questi anni a psine e poi faccio un post direttamente sul sul blog e questo post che di solito un bel post bello bello lungo di solito non meno di 1300 1400 parole lo poi lo spammo in giro attraverso fesa adesso dico scherzando spammo ma lo mando su facebook sulla mia pagina sulla fan page di psine che c'è da un anno mi da grandi soddisfazioni come divulgazione della fan page di psine e poi uso linkedin lo mando su linkedin ovviamente questo è un po tutto satellitare nel senso che l'attenzione principale e su spreaker sul blog e sulla mailing list poi dopo lo condivido attraverso facebook facebook linkedin google plus e basta questi sono i canali su cui lo lo spalmo durante la settimana poi faccio un'operazione dove li recupero e li mando anche su youtube no per in formato audio in modo scaglionato ecco questo un po la mini strategia di divulgazione benissimo per quanto riguarda il marketing che cosa fai per pubblicare e più che per pubblicare scusami per acquisire nuovi ascoltatori per far conoscere il tuo podcast a sempre nuovi ascoltatori allora principalmente queste cose qua quindi fare un podcast alla settimana cerco di essere molto regolare con la pubblicazione del podcast e questo mi consente di avere una crescita di della mia mail in list che ovviamente non si basa sul podcast si basa su due bonus che i miei ascoltatori ricevono quando si iscrivono alla mail in list il primo è un manuale un manuale delle mie cose appunto un report sulla meditazione moderna questo è il primo bonus che mi consente appunto il lead magnet no come lo chiamate come lo chiamano come lo chiamate voi esperti che mi permette di acquisire clienti e poi chi si iscrive non riceve solo questo report ma tutte le settimane riceve quello che io chiamo qd e che sarebbe il quaderno degli esercizi che è un file in pdf che riassume i punti principali del del podcast che non sono che non sono mai inseriti nel post cioè il post è una specie di discussione di quello che ho detto ma non è quello che ho detto nel podcast mentre in questo qd è che arriva nelle mani solo degli iscritti ci sono tutti i passaggi del podcast non so se dico dieci consigli per questi dieci consigli saranno sia nel podcast ma non nel post non so non vorrei confondermi ma sono presenti in questo quaderno degli esercizi quindi uno insieme al podcast si può scaricare questo questo quaderno degli esercizi che è un bonus ulteriore che mi consente di aumentare la lista ogni settimana questa è la mia semplice diciamo così campagna di marketing insieme a al fatto di fare non so ecco una cosa molto interessante che sto sperimentando da poco sono le live su facebook che sono davvero tanto interessanti insomma io che sono un non sono un esperto di queste cose qua mi 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 lancio nelle cose che mi sembra possano essere utili per quello che faccio e ad esempio vedevo un altro mio collega molto bravo luca mazzucchelli che ho visto che tu intervistato tempo fa per la tua rubrica giusto è un carissimo amico luca ormai siamo ci conosciamo da vari anni è veramente lui è molto attivo sui video invece rispetto al podcast infatti infatti quando non l'ho visto pensato fra gli invitati dico giulio pensato subito perché lui è più posizionato come video come uomo dei video che non come pota ma anche lui ha un podcast no che è la rifacimento del sui video in formato audio che quello che faccio io in formato video su youtube fra virgolette quello che fai anche tu se non sbaglio che ripubblichi su poi su youtube parte delle delle puntate che fai sia in podcast ma poi in video così come stiamo facendo in questo momento e quindi si luca mazzucchelli ho seguito anche lui un po nel nel tempo e questo mi ha diciamo così tutto tutto questo mi ha consentito di di capire sempre un po un po di più quali sono queste cioè fare le live su facebook mi ha consentito anche di capire lo fate due non ho fatto 800 mi ha consentito di capire che c'è davvero un interesse estemporaneo su su queste cose nel senso che uno va su facebook attacca la telecamerina e ci sono 20 persone lì che ti ascoltano no e questo è per me è davvero straordinario credo senza senza poter fare vere previsioni che questo sarà il modo con cui cercherò di promuovermi ancora di più nel futuro e poi ovviamente faccio un sacco di piccoli eventi live nel senso che tengo dei piccoli corsetti ogni volta che e tra l'altro c'è proprio una specie di soluzione di continuità chi viene al mio corso spesso non conosce il mio lavoro cioè a volte viene per per passaparola poi impara a conoscere il mio lavoro si appassiona il podcast e quindi ci sono tanti canali c'è la realtà reale che si fonde con questa realtà web continuamente nel mio lavoro e spesso quando mi chiedono di come si può dire misurare quanto mi porta il podcast quanto mi forse sarà una domanda dopo non lo so magari ti sto anticipando tranquillamente quando mi chiedono quanto guadagno da questo podcast mi chiedono ma che c'è che ritorno hai da questo podcast io dico sempre a parte dei numeri perché ho dei numeri perché faccio dei percorsi digitali e quindi posso dire quanti soldini fra virgolette all'anno arrivano in parte da questa promozione ma c'è tutta una parte che è incalcolabile cioè è quella persona che mi segue vede gli piace il mio stile e magari inizia a fare consulenza con me e resta con me per un anno a fare consulenza e mi paga i miei 70 euro all'ora tutte le settimane quindi è impossibile adesso ho fatto un po un caso estremo ma è è difficilissimo misurare quanto mi porta il podcast in termini economici comunque porta tantissimo perché come forse sai la mia professione dicono tutti che non c'è lavoro è invece una cavolata insomma perché basta vedere su internet scrivere non so psicologia e vedere quanti siti sitarelli podcast video canali ci sono su questo argomento il motivo è che c'è davvero una grande richiesta poi ovviamente c'è un gioco a di marketing no c'è chi dice io faccio il la formazione non faccio la psicoterapia insomma ognuno cerca di di ritagliarsi un po il suo la sua nicchietta ma in realtà c'è tanto lavoro c'è tanta apertura alla psicologia soprattutto in questi anni e sono sicuro che attraverso la tecnologia ce ne sarà sempre di più perché effettivamente andiamo a lavorare un po con i nostri processi mentali anche in questo momento fra virgolette è vero e durante live su facebook che cosa fai allora ho fatto una prova soltanto sono due prove la prima cosa che ho fatto è stato vediamo un po se c'è qualcuno che vuole delle risposte quindi chiedo se ci sono persone che vogliono farmi delle domande e vedere se sono in grado di dare delle risposte per ora ho ricevuto poche domande perché non fate solo due di live queste live però visto che c'è un engagement molto alto cioè nel senso cavoli ci sono 20 persone e ci sono 30 commenti oppure 30 40 mi piace un sacco di condivisioni ci viene davvero percepita come un valore il fatto che tu sia lì live e non tanto almeno penso che sia questo perché altrimenti non si spiega oppure magari se io registrassi dovrei prima registrare un video metterlo su facebook e vedere cosa succede magari ci sarebbe lo stesso identico effetto però per quello che ho che ho sentito io per ora è stato questo quindi oltre a fare a chiedere di farmi delle domande anticipo un po faccio marketing quindi non so dico il 25 mattina sarò con giulio gaudiano per il festival del podcasting questo è stato il l'inizio del tema della dell'ultima live quindi sì lo faccio per e anche ultimamente lo sto facendo per anticipare per una specie di anteprima del podcast bene questo è molto interessante utilizzare la live di facebook come teaser volevo soffermarmi un secondo sul quaderno degli esercizi del quale hai parlato perché è effettivamente un qualcosa di estremamente originale quello che stai facendo non sei l'unico nella formula di dire voi ascoltate il podcast se poi volete altri materiali collegati al podcast venite sul sito web dove vi dovete registrare qui dove posso fare lead generation posso acquisire la vostra email per potervi scrivere però lo fai in una forma che mi ricorda molto un altro podcast storico penso che ci siano passati la maggior parte dei podcaster che stanno nel mondo del podcasting dal 2006 perché al tempo era il miglior podcast per imparare l'inglese sto parlando di esl english as a second language del non mi ricordo come si chiama il podcaster comunque di un professore americano e quel podcast aveva come un modello di business particolare cioè il podcast dava il valore pienamente faceva alla lezione d'inglese tutto facendo una piccola conversazione molto lenta poi la spiegazione dei termini citati in quella in quella conversazione poi la stessa conversazione più veloce quindi un vero e proprio allenamento però se volevi scaricare il materiale scritto gli esercizi potevi andare sul sito e abbonarti al diciamo al sito web e abbonarti al podcast pagando una cosa minima in questo modo potevi scaricare i pdf la mia domanda è questa tu non lo fai naturalmente come strategia di monetizzazione ma come strategia di acquisizione contatto perché come giustamente detto tu il guadagno del podcast è difficile da misurare perché è incalcolabile perché torna sotto forma di consulenze di corsi e di autorevolezza ma durante le tue puntate promuovi la possibilità di scaricare il quaderno degli esercizi andando sul sito web e iscrivendosi oppure è una conseguenza del fatto che le persone entrano nella lista da altre parti e poi da lì in poi ricevono il podcast allora lo promuovo direttamente lo promuovo intanto conosco gli esseri infatti hanno preso il cellulare non si era mai ma ce l'ho qua il podcast che jeff mcquillan si chiama mi sembra è vero jeff mcquillan mi ero dimenticato coming to you from los angeles cos'è che fa morire da quando mi sono trasferito in australia le mie occasioni di ripasso dell'inglese sono decisamente passano per altri canali immagino allora il sicuramente sì 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 io promuovo direttamente giulio il il podcast non non ho rubato l'idea a isl ma in realtà mi è venuta da sola nel senso pensato ma uno che ci guadagni iscriversi alla mia mailing list no cioè alla fine arriva si può scaricare si può ascoltare il podcast se lo ascolta tranquillamente se lo può ora che su speaker se lo può scaricare perché sappi che non sappi tu ma tu che stai ascoltando che se vuoi venire su speaker se vuoi metterlo su itunes devi dare la possibilità di poterlo scaricare altrimenti sprecher non te lo fa mettere su itunes e ma penso che nessuno te lo faccia mettere su itunes se non è possibilmente scaricabile ecco per credo è corregimi se sbaglio giulio perché diciamo una cosa simpatica che oltretutto della quale ho parlato con una cliente proprio oggi prima di queste dirette perché per me la fine della giornata è stata proprio questo ogni cosa che passa dal nostro computer è di fatto salvabile scaricabile in maniera più o meno complessa e sprecher genera un feed rss cioè itunes per riuscire a indicizzare i vostri episodi ha bisogno di un feed rss dal quale prendere titoli posizione del file e una volta che ha il link al file che sta su un server e questo link deve essere liberamente accessibile altrimenti quando andate su itunes cliccate play e lui non ve lo può dare quindi per renderlo scaricabile attraverso itunes comunque è necessario rendere il podcast scaricabile da parte delle persone che ascoltano la cosa che fa sprecher è dare la possibilità di spuntare o meno la possibilità di scaricare direttamente cioè il fatto che lui mostra un pulsante sotto il player che ho scritto download scarica dell'episodio in modo che chi ci ascolta attraverso sprecher e poi immagina di non poter avere la connessione internet o volerlo ascoltare in un secondo momento ci sono miei ascoltatori che per esempio ascoltano gli episodi in contesti dove non hanno la connessione internet allora attivando l'opzione su sprecher si vedrà questo pulsante gli ascoltatori potranno scaricarlo direttamente comunque è una cosa che devi fare obbligatoriamente se vuoi distribuire il tuo podcast attraverso il feed rss e quindi sprecher e quindi sì quindi andai tanto l'ho capito adesso perché devo fare quindi grazie giulio nel senso che non che non è così automatico capire perché devi rendere possibile questo scaricaggio quindi all'inizio io ho fatto un po il furbo c'è prima 33 podcast ne ho fatto un po il furbo cercavo di non farli scaricare ma era un casino perché bastava che un qualsiasi pirlotto riuscisse ad accedere al codice di sorgente del blog se andava a pescare il file mp3 e se lo scaricava insomma quindi era proprio un una cavolatina e allora ho detto devo trovare qualcosa che mi consente di veicolare più valore quindi oltre al post che gratis e lì pubblico uno non si deve scrivere da nessuna parte che cosa posso dare che gli do un report che gli do l'insieme dei vecchi mp3 ma sono tutte cose che che una volta che il report lo scarichi gli mp3 te li vai a pescare tutti uno a uno quindi volendo uno che si sbatte poteva scaricare tutto senza mettere un email allora ho detto devo mettere qualcosa che veicoli in vero valore qualcosa dove tra l'altro è molto intimo il qd e cioè chi lo legge sa che io parto dicendo le mie opinioni anche più più particolari su su quell'argomento quello che penso davvero che magari non scrivo in pubblico non perché non voglio che che venga letto in pubblico perché non voglio rotture di scatole non voglio rotture di scatole quindi solo chi è davvero appassionato del mio blog può leggere la mia come potremmo chiamarlo opinione intima su quell'argomento e poi ci sono appunto come ti dicevo c'è la struttura dell'esercizio perché io cerco sempre poi di rendere il podcast pratico alla fine dico vediamo un po se riusciamo a estrapolare 5 6 consigli pratici che uno possa mettere che posso usare utilizzare subito e poi alla fine inserisco una griglia con i dieci qd e precedenti così uno si può scaricare i dieci quaderni degli esercizi che si è perso quindi anche se se ti scrivi oggi ai dieci quaderni degli esercizi precedenti e poi tutto un insieme di bibliografia che contiene miei post post di amici post che mi interessano a volte libri a volte libri con affiliazione quindi che abbiano dentro magari un linchino che mi faccia tornare indietro qualcosa che non metto mai in tasca nel senso che tutti i libri che vendo poi io mi compro altri libri questa è la mia è la mia strategia ecco un'ottima strategia direi un'ottima strategia e c'è una particolarità di questa cosa che voglio rendere ancora più esplicita perché quello che tu stai facendo è eccezionale e chi lo ascolta potrebbe darlo per scontato potrebbe non capire l'eccezionalità di quello che stai proponendo cosa fa gennaro di così incredibile di fatto questa idea del qd e del quaderno degli esercizi gli dà la possibilità prima di tutto di fare un podcast che è formativo e non solo informativo perché di fatto nel momento in cui dai un quaderno degli esercizi dai un contenuto sul quale le persone possono lavorare per trasformare in un beneficio concreto quello che hanno appreso attraverso il podcast io per esempio come podcast strategia di gene strategia digitale è un podcast non formativo ma è informativo quindi si possono trarre delle informazioni delle idee certamente ma non vengono proposti gli esercizi quindi questo espediente del quaderno già da quel punto di vista interessante ma è ancora più interessante perché il fatto di dare un quaderno cioè un beneficio nel tempo non è un espediente come un altro come un lead magnet cioè un un prodotto un contenuto un ebook un paper un video un episodio segreto come ne parlavamo anche prima con max formisano che può incoraggiare le persone a lasciarti la loro email cioè gennaro sposta il fuoco dal io ti do questo e tu mi dai l'email una volta per tutte quindi se è uno scambio l'ascoltatore potrebbe anche mettere un email temporanea potrebbe anche mettere l'email scaricare cancellarsi no gennaro sposta il fuoco sull'utilità di mantenere un rapporto continuo perché se tu mi dai via email ogni settimana a ogni puntata del podcast un contenuto che mi permette di fare quindi un quaderno degli esercizi un contenuto che mi permette di sfruttare appieno il potenziale formativo del podcast che sto ascoltando da io non rinuncio mai a voler ricevere i tuoi messaggi perché quando rinuncio vuol dire che smetto di formarmi gratuitamente e tu hai la garanzia che ricevo e apro tutte le tue email e al tempo stesso fai una distinzione chiara tra quelli che vogliono solo ascoltare e quindi fare diciamo attingere all'informazione e quelli che vogliono fare e quindi mettersi in gioco personalmente quelli là sono i veri potenziali clienti di gennaro per quanto riguarda le sue consulenze i suoi corsi di formazione cioè non è semplicemente una persona che è stata interessata ha avuto la curiosità per scaricare quel materiale però poi non l'ha visto cioè chi si iscrive chi dà l'email a gennaro per scaricare i quaderni degli esercizi fin tanto che apre le email e clicca sui link cosa che gennaro può tracciare attraverso il suo software che è eweber sicuramente interessato alla formazione in quel campo vuole è attivo non è che ti ha dato l'email e poi semplicemente così ti ha fatto un filtro e non legge più le tue mail no fin quando le riceve le apre è caldo e il suo fatto di essere caldo ti sta dicendo sta dicendo a gennaro voglio acquistare un tuo libro voglio fare un tuo corso voglio partecipare a un tuo evento voglio fare una consulenza quindi è veramente un'idea geniale questa qui ne prenderò nota perché da inserire sicuramente nel corso di podcasting sviluppato anche quello grazie a spreaker che è stato l'incubatore di questo festival gennaro passiamo alla parte successiva voglio capire bene tu mi hai parlato di facebook di una pagina pubblica su facebook di un blog voglio capire se ci sono altri canali attraverso i quali dialoghi con il tuo pubblico allora non ci sono altri altri canali al di là di questi tramite e tranne appunto si linkedin che uso poco sbagliando perché mi dicono che ha una risorsa molto importante insomma però faccio difficoltà a imparare tutte queste cose contemporaneamente insomma seguirle tutte e infatti più che di canali giulio torno un attimo indietro nella domanda sul marketing che mi hai fatto che è simile quindi come distribuisco quello che faccio per metterla sotto un cappello in realtà non faccio tutto da solo nel senso che io ho un amico che io ritengo un genio del marketing che lui a lui piace restare anonimo ma lui è il webmaster di seduzioneattrazione.com che si chiama marco ed è il mio mentore marketing e anche colui col quale faccio dei progetti di formazione online ecco se non ci fosse lui probabilmente io navigherei ancora a vista nel campo della della del marketing e della divulgazione su internet e quindi ecco questo me l'ero dimenticato io faccio tutto da solo ma non è vero perché lui non si occupa direttamente di fare le cose per me però mi mi sprona non so due anni fa mi ha rotto le scato e il cambio a sto cazzo di blog scusate se dico le parolacce ma di passarlo da la vivo blogger per passare la wordpress un patema ci ho messo tre anni a decidermi a passare da blogger a wordpress se non ci fosse stato lui niente lui mi spielli mi insegna non so ad analizzare le statistiche di a weber mi insegna a pulire le liste insomma senza di lui io navigherei davvero a vista quindi sicuramente una parte del del successo del podcast lo devo a marco di seduzione attrazione punto com lui non lo sa che lo sto citando spero che non si arrabbi anzi gli sto facendo pubblicità in realtà però che lui si occupa soprattutto di di marketing ecco anche se la gente non lo sa la gente non benissimo allora dopo questa fantastica pubblicità andremo tutti su seduzione attrazione perché l'hai lasciato così anonimo andremo a cercare di scoprire chi è tu invece raccontaci l'hai detto in parte come tiri fuori i soldi dal podcast allora prima la prima cosa sicuramente è l'aumento di persone nel mio studio quindi c'è gente che arriva nel mio studio ed è fantastico perché come puoi immaginare giulio la gente che va dallo psicologo si aspetta intanto un signore di una certa età no che arrivi che apra la porta l'uomo col barbone vecchio che invece di poi di darsi del lei tutto il tempo invece io come apro la porta ciao genna ma io t'ascolto da due anni era una vita che volevo conoscerti quindi la quando io apro la porta del mio studio c'è questo effetto bellissimo la gente magari mi chiede un appuntamento in modo molto formale poi quando arriva lì mi confessa che mi segue da due anni mi confessa che che un bel po di te quindi questa è la prima cosa sicuramente è un aumento esponenziale del mio studio e come stavo dicendo poco fa noi psicologi siamo famosi per dire non c'è lavoro ma è una cavolata nel senso che onestamente devo grazie a psine io devo mandarla via la gente dal mio studio nel senso che che non ho abbastanza spazio per tutte le persone che riescono a richiedermi consulenza e non sono l'unico psicologo siamo davvero tantissimi e che i miei colleghi sono ancora convinti che internet sia il male o meno non i miei colleghi come luca mazzucchelli ma colleghi un po più vecchi che fino a qualche anno fa pensare ad una consulenza via skype era una bestemmia oggi è la normalità oggi escono libri su come si fa la consulenza via skype quando iniziato a fare il mio blog ti confesso che molte persone influenti nel mio campo mi avevano straconsigliato di chiuderlo mi ha detto guarda chiudilo perché tu non puoi dire certe cose su internet diciamo ma scusa ma se uno va alla filtrinelli apro un libro trova la stessa roba non è che io dico una roba segreta anche deve restare negli archivi sotto il vaticano no è una roba pubblica che uno va cerca su internet la trova quindi questo sicuramente la prima parte poi come seconda parte dei corsetti non ne faccio tanti ma ne faccio con una certa regolarità mi chiamano palestre mi chiamano soprattutto per quanto riguarda lo sport non so perché perché io non sono affatto sportivo e quindi mi chiamano per lo sport e poi infine la terza parte che sicuramente la più importante sono tutta una serie di produzione di formazione digitale che insieme a marco facciamo da anni il nostro progetto si chiama sviluppo personale scientifico ed è un appunto è l'importazione di quell'idea che ti dicevo all'inizio dell'intervista il fatto di fare percorsi di crescita personale che abbiano una bibliografia sperimentale quindi dire guarda che questo esercizio qua non me lo sono inventato io ma ci sono 20 studi che dicono che questo questo esercizio fa bene ecco semplicemente avere una base scientifica per la crescita personale questa terza parte qua in questi anni sta prendendo il posto della consulenza nel senso che tra po faccio più soldi su internet detto in poche parole che non nello studio ma questo è un super vantaggio per il mio lavoro e mi spiego spero se c'è qualche mio collega all'ascolto spero che afferri bene questo concetto il fatto di guadagnare tanto su internet non tantissimo ma è giusto per poter sopravvivere mi permette di non essere attaccato al mio paziente cioè il fatto di non cercare consciamento inconsciamente di sfruttare il mio paziente cercare di mungerlo fra virgolette e questo è un aspetto molto importante cioè internet mi permette di di avere la giusta distanza da quello che è il pagamento nella mia professione perché so che anche se quel paziente lì che sta un po bene ma sai non so se lasciarlo no lo lascio andare perché tanto poi il mio business non si basa sul mio paziente ma si basa poi sul prodotto digitale questo è veramente bellissimo ti ringrazio generale di aver dato questa testimonianza perché è un effetto diciamo collaterale o secondario dell'attività su internet cioè molti iniziano un'attività nel mondo digitale dicendo voglio fare business con il mondo digitale come se fosse un'alternativa al loro business non digitale quello che vedo nel 100% dei casi cioè tutti i miei clienti io di professione aiuto persone come te prima di entrare nel mondo digitale che dicono io sono uno psicologo vorrei per esempio utilizzare il digitale per potenziare il mio business benissimo quello che ho visto è che il digitale gli permette di lavorare meglio con il loro lavoro analogico e di scoprire delle nuove frontiere in certo senso di sbocciare come professionista attraverso delle abitudini o delle attitudini coltivate e sviluppate proprio grazie al digitale quindi quello che hai detto che sia molto importante spero che non lo dici solo tu non l'ho visto solo in te l'ho visto naturalmente anche in Luca che grazie proprio alle sue attività digitali ha avuto un'esplosione del suo business e vedendo questo ha capito come l'interazione tra la propria presenza e professionalità analogica e quella digitale se interagiscono e non sono in contrapposizione può portare a un'esplosione Gennaro io ti ringrazio infinitamente per questo contributo per questa intervista per aver fatto conoscere Psynel al festival del podcasting ti lascio la parola per salutare e dare soprattutto i contatti per chi vuole ascoltare e iniziare ad ascoltare Psynel ciao allora Giulio io ringrazio te, ringrazio Spreaker e tutti gli sponsor per l'invito allora per restare in contatto con me, con il mio lavoro psicologianeurolinguistica.net oppure più semplicemente Gennaro Romagnoli su Google il primo risultato sono sempre io per iscriversi e scaricare questo quaderno degli esercizi basta andare in alto a destra, cliccare appare il classico form inserire l'email migliore e ogni settimana ricevi questo quaderno degli esercizi ogni settimana una nuova puntata del podcast di Psynel bene